1, 2, 3 Project Model, anche Paola Alter, sbotta di Galoppo, con il Battistrada che ora va a passare i primi 400 metri di corsa in 31 e mezzo. Numero 1, squalificato. A tabellone sono finiti Penny Lane Hens e Portos Tommy nell'ordine, allora comanda Project Model a comandare in seconda posizione Principessa Sofia, via che precede a sua volta Penelope S, con i cavalli ora che vanno al completamento della seconda piegata. Ha preso la via del largo nel frattempo Passione Car che avanza gli 800 che vengono passati da leader in 1,5 e 1 con l'esterno di Passione Car che va ora ad appariare gradatamente il Battistrada di Project Model. Terza posizione, il numero 5, squalificato, per cui forse non è stato recepito la squalifica da parte di Lucca Fierro. Cavalli che ora vanno sulla penultima piegata con la mossa di Passione Car, 14,6 questa frazione, scavalca Project Model nel frattempo, avanza, numero 4, squalificato, perfect photo con sempre a comandare nel frattempo Passione Car, 14,7 la frazione, a tabellone anche Posillipo OR con Passione che comanda Project Model in seconda posizione. All'esterno, perfect photo come detto, a cui scia è stata presa nel frattempo da Paula Alter che ha di dentro Principessa Sofia, 250, alla meta con l'avanzata ora di Paula Alter che va a scavalcare, perfect photo e va dritta su Passione Car, Passione Car che scappa via ma Paula Alter che va a sprintare a centro pista ma improvvisamente ha un cambio di direzione per cui Passione Car va a vincere facile 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 su Project Model e Principessa Sofia terminati nell'ordine, Paula Alter invece finita a tabellone. La vittoria di Passione Car con René Legati, 5,13 la quota al tot nazionale, Project Model al secondo, Principessa Sofia al terzo, 2,39,9 il tempo totale, 1,17,6 raguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29,8, 15,6 la dirittura di arrivo, la vittoria per Passione Car e René Legati, numero 6 dello schieramento.